bene bene salve a tutti vincent warlike e benvenuti nel mio canale continuiamo la campagna e andiamo avanti allora abbiamo eliminato un piccolo esercito davanti a casa nostra ma direi che c'è poco e nulla altri insediamenti direi che dopo qui in questa zona dovrebbe essere l'ultimo di vulgaria invece poi ce ne sono altre due la per aria quindi vulgaria potremmo eliminarli abbastanza in fretta guardiamo un po' ok l'esercito è rotto questo è il nostro mercante allora intanto metto a posto ne approfitto per mettere a posto l'esercito quindi mettiamo i trolloni le nostre fanterie di macete arciere le nostre cavallerie cavallerie di tiratori ok ci metto anche queste due buoni va bene allora attacchiamo questo gruppetto di gente qui intanto abbassiamo un po' le tasse love allora reclutiamo reclutiamo nessuno al momento ok attacchiamo queste che scappano ma lo faremo in automatico molto bene torna qua allora questo direi che a posto questa gente qua la mando la mando qui a vulgar a fare un retrain qui mandiamo ah diciamo chi è i tartari mandiamoci queste altre due cavallerie ok bene pensavo ci fossero i tartari invece no allora prepariamo un nuovo esercito allora questi li mettiamo tre generali va bene ok questo lo portiamo qua abbassiamo le tasse ottimo possiamo reclutare qualcosa lo stiamo già facendo molto bene questo altro lanciere direi di mandarlo qui anche lui ok così lo possiamo sistemare e poi visto che siete in tre generali fare una torre qui in giro magari ok bene ottimo faccio una che qui poi va bene ok allora qui abbiamo detto che c'è un insediamento va bene passiamo il turno no voglio andare avanti questo l'ho già fatto passiamo il turno ah dovevamo andare a conquistare anche l'insediamento di Eppos è vero ok qui c'è anche dell'oro su quest'isola guardiamo un po' ok quindi siamo qui che cosa c'è conquista l'insediamento vest su bar ok adesso ci sto andando un attimo allora intanto andiamo a prenderci questo insediamento qui abbiamo due baliste ma non mi fido visto che sono già stato gabbato anche un'altra volta dalle baliste quindi manteniamo l'assedio almeno per un turno allora delle rivolte negli insediamenti un mercante un altro mercante che è morto vabbè non è che i nostri introiti arrivano dai mercanti ok torna dentro bene te vai qua ottimo cos'è questa marcia cosa c'è hanno qua dentro chi è che lo sa proviamo ad assassinarlo via dai no è morto la nostra è morto il nostro agente allora questa è una spia mandiamola avanti ok ah altre unità che arrivano dall'altra parte ok va bene allora prepariamo un po' un esercito allora a questo punto ok questi i lancieri questi li voglio fare entrare qua e metterli a posto anche perchè è l'unico posto dove posso ripararli allora queste cavallerie facciamo gli arcieri ok il mortigaunt catapulti e balista ma la catapulta vorrei farla andare qua e questo gli diamo due baliste ok ottimo direi che siamo già un buon e discreto esercito di cavallerie non ne abbiamo bisogno visto che diamo tanti generali e direi di andare verso questo qua ok intanto qui continuiamo facciamo un po' di retrain vai intanto prepariamo anche la barca ok cosa abbiamo qua di diverso uomini con macete prendiamoli ok 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 va bene facciamo un po' di costruzioni anche mettiamo a posto qui stiamo mettendo a posto ok va bene teniamoci un po' anche di soldi da parte passiamo il turno ah 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 tanto stanno cercando in vano i vulgari di mandare giù delle unità ma ok ok guardiamo un po' quale sono le sue capacità oh insomma qui intanto però ci sono già delle strade asfaltate di pietra ah allora qui stanno radunando l'esercito ma non fanno tempo vai di qua ok voi andate qui ottimo dai andate dentro cazzarola allora ahahah vai qua qui stiamo reclutando ottimo allora dai fatti 24 un capitano ma che tristezza che tristezza che tristezza eh mighty leader eh allora vai di qua eh ok ma qui cosa c'è che c'è tutta sta gente qua ma fammi vedere ma qui Lenkip non c'è dov'è qua allora allora numero 3 di unità che non si pagano nel coso quindi se io le tiro via alcune per risparmiare ad esempio qui perchè sempre in rosso sta cavolo di città allora dai andiamo a fare cosa c'è qui lo squallore e vabbè facciamo salute pubblica ok bonus alla salute pubblica lo facciamo anche Shad vulgari se si può fare no al momento no ci sono i nostri soldati colpiti dalla Shagura allora facciamo un con facciamo le miniere ok basta coi terrans scadenti buone coi goblins ok dai allora chi è morto qua ah è crollato l'ordine pubblico perchè abbiamo perso un familiare ma ce ne abbiamo 10.000 in giro dai chi c'è qua qui c'è qua c'è qua c'è qua c'è ah questi qui si è fatta mounted heavy e qui cosa ci abbiamo eh questi sono più forti di mounted heavy allora mandiamoli su questi e dai ma che sono cattivo ma adesso ti vengo a fare il culo ok perchè mi hai rotto le palle che dall'inizio della partita che sei lì ok eh l'inizio della campagna che è lì quindi andiamo a ammazzare anche quei briganti ribelli allora ah ecco dove ho messo perchè è talmente tanto grande sta mappa che mi ci perde allora assalto ok chi è che è questo il capitano eh uno sconosciuto perfettamente sconosciuto chi ama il viola capitano capitano jamal quindi facciamo una risoluzione automatico sicuramente prendiamo l'insediamento ottimo quindi abbassiamo subito le tasse ripariamo e facciamo subito i campi ok ottimo perfetto perfetto indolore intanto diamo un'occhiata anche da questa parte se magari sono cambiate le situazioni dovrei reclutare un emissario qua ok questo prendiamo anche una spia ok qui si potrebbe anche chi è cacchio è questo un eretico in guerra eh allora facciamo un prete via dopo facciamo la spia questi eretici maledetti ahah ok allora va bene ehm passiamo il turno eh vengono a combatterci ahah ahah non aspettavo altro cos'hanno qua delle fanterie va bene tutte fanterie tutte fanterie ragazzi tutte fanterie noi come stiamo messi bene andiamo in battaglia allora questo è il nostro schieramento quindi iniziamo la battaglia ottimo vorrei dire di andare un po' più avanti ok ah ok l'altro schieramento è là tirata a volontà vabbiamo andiamo avanti anche i nostri vortigaunts a tirare delle sfiammate di di plasma uuuh ok attacchiamoli fermo qua ok dai avanti prepariamo lo schieramento intanto anche per l'altro ottimo abbiamo eliminato il nemico prepariamoci per l'altro scontro ok muoviamoci tanto direi che questo schieramento l'abbiamo già distrutto ottimo i nostri lancieri fanno abbastanza schifo devo dire la verità allora prendiamo lo schieramento di fanteria portiamolo qua davanti ottimo lasciamo che i nostri generali eliminino i nemici in fuga attacca Sì, ma fermati, cazzarola. Oh, finalmente lanciamo un qualcosa, anche da queste baliste. Via, spostiamoli, carica, fuori con le cavallerie. Un altro generale è caduto. Molto bene. Ottimo. Vorrei girare qua con i nostri morti gaunt, eliminare un po' di gente in fuga, correre qua, dai. Avanti. Seguiamoli, non diamogli tregua, qui c'è della gente. Diamo una mano. Continuo io, ci vediamo subito dopo. Allora, un'eroica vittoria, molto bene, quindi massacriamoli. Trecento e qualcosa, le nostre perdite. Allora, una gilda, sempre dei ladri, Asuvar, ok, va bene. Direi che possiamo andare a marciare a questo punto verso l'insediamento. Aspetta, cosa abbiamo qua? Ok. Allora, voglio fare il retrain di questa gente qua. Beh, i lancieri, devo dire che sono abbastanza scarsi, eh. bene. Qui ci abbiamo, una catapulta che la stiamo mandando qua, ottimo. Qui stiamo reclutando della gente. Allora, il diplomatico, il prete, ok, qua, perché stiamo... Ehm, il diplomatico lo è in barco e lo faccio andare qua a vedere di fare nuove contrattazioni mentre il prete voglio uccidere qua questo eretico che è questo qua? Ma chi è questo? Ok, ammazziamolo se ci riusciamo. Ok, una nobile morte, mi è morto un... un generale in battaglia. Eh, vabbè, pazienza. Non ne ho... ma non me ne sono morti tanti fino adesso, anzi, forse è il primo che mi muore di generale qua su... in Nausak Dominion. Allora, guardiamo un po' qua. I campi, ok, ci siamo. Ehm, guardiamo questo se appartiene veramente a questi. Mh... Questi sono i Sith. I Sith, quelli di Star Wars. E potremmo anche entrare in guerra con loro con l'appoggio magari dei minotauri, visto che sono già in guerra con queste fazioni. Magari adesso mandiamo il nostro emissario a chiedere una contrattazione, guardiamo se quest'altro è arrivato da qualche parte. Dove cavolo sei? Allora, dai, muoviti, vai qui dagli umani. Muoviti. I go now, I go now. I go now. I go now. I go now. Allora, qui... Ok, vabbè, muoviti, 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 vai qui. Qui, diciamo che l'isola è abbastanza tranquilla. Chi c'è con prete? Ok, guardiamo un po' le costruzioni. Questo... Vargula è a posto. Qui stiamo costruendo. Qui andiamo a fare dei... Un market, ok. Quanto costa questo? 1200. Abbiamo degli introiti? Direi di sì. Allora, fammi vedere... Rensing track, ok. Ma aspetterei un attimo, passiamo il turno. Oddio. Ah, è vero che stavo andando ad attaccare... Stavo dicendo, ma cosa succede? Mi ero dimenticato che stavo andando ad attaccare qua... Qui cosa c'abbiamo? Dei... Chiruleans. Questi sarebbero i puffi. O... O gli avatar. Poi che ci sono qua? Dei vulgar... Falxman col falcione, ok. Hanno un'unità... Di tiratrici a cavallo. Visto che c'ha le tettine. Vulgar Midens. E... Altri spear milizia. Milizia... Ok, direi che... Potrebbe essere anche una battaglia divertente. Andiamola a combattere. Dai, via. Allora... Allora... Star deploy. Ok, va bene. Qua ci sono i funghi, ma... Per fortuna non ce ne sono tanti. Allora... Guardiamo un po' di fare una bella cosa. Allora... Mettiamo qua davanti... Sicuramente i nostri giavellottisti. Ok. Ok. Bene. Allora... Il generale... Il nostro capitale è questo qua. Poi facciamo... Un lancere... Uno swordman... Swordman e lancere. Ok. Lo mettiamo qua così. Ok. Poi le cavallerie le teniamo qua... Dietro per il momento. Bene. Ok. Iniziamo la battaglia. Possiamo andare avanti. C'è la prima volta in tutta la campagna che uso questi qua verdi, la milizia a combattere. Guarda cosa c'hanno, un tatuaggio. Ehm... Arrivano belli carichi. Ehm... Attacca! 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 Datacca! Carica, usiamo la carica come bonus carica, c'è il luogo guarda tra gli uomini nudi, ok io direi adesso di aggirarli con la nostra cavalleria, anche se sono continuiamo con i giavellotisti che fanno male, correre però ragazzi, andiamogli addosso, ok we have bled our foes well, they have few warriors still standing ok, se la danno a gambe, sono proprio delle donne andiamo a vedere un attimo qua lo scontro, ma dovremmo avere la meglio sicuramente ottimo va bene concludo qua anche questa battaglietta ha! ha! our enemy is no more, we are the mighty one! great leader, we have defeated them! ok, questi li rimandiamo qua nella capitale, ottimo! la costruzione è pronta, guardiamo un po' qua, quindi andiamo a fare qualcosa per la religione, una chiesa subito, ok, vediamo se riusciamo ad ammazzare questo eretico, no! mannaggia la miseria, allora mandiamo un emissario qui, dai minotauri, ok, allora intanto questo continuo ad andare qua, va bene! allora vogliamo un po' qua di trovare qualche scimmione, i go now! no further today my leader allora la nostra catapulta è arrivata, bene beh ammazza qualcuno, miseria, non riesce neanche ammazzare un capitano qui, va andiamo avanti a scoprire un po' chi c'è, che cosa arriva da là, ok, bene un altro esercito in arrivo ragazzi, con catapulta vai, prima di concludere l'episodio, andiamo a farci anche questa battaglia, via, veloce ahahahah, due catapulte, ma si, non ci fate, non ci fate nulla, andiamo in battaglia! allora, questo è lo schieramento, iniziamo la battaglia, molto bene, andiamo subito a colpirli un po' tutto un saliscente questa mappa, va bene allora, una cavalleria di tiratori, ma gli tiriamo subito anzi, facciamo così facciamogli una bella carica del generale a a a Grazie a tutti. Allora, l'oro balista dove cavolo è? Ah, tutti i tiratori a cavallo questi, allora. Ma che cavolo state tirando voi? Ma giratevi, miseria! Ah, qui c'è la balista, ok. Ah, è una carica del generale, ci sta. Ok, via. Tornano alla ribalta, diamogli di porti gaunt, ok. Avanti con le fanterie. Allora, guardate la posizione bene, a presto ci saranno. Allora, guardatevi, 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 guardatevi. Ok, questo si è il nostro generale, ok. Continuate a tirare qua, ottimo. Bene. Un pallone di fuoco, tirate qua alla sua catapulta, ottimo. Ottimo. Ha, fungono. Guardate che fa il fuoco rosso, figo. Ottimo, il nostro generale, che ha questa qua, una cavalleria di... Vabbè, basta qui, mi hanno stancato questi qui, inseguiteli fino alla morte loro. Qui stiamo inseguendo un po' a bambera. Allora, qui ne abbiamo un altro, ok. Avanti. Andiamo ad eliminare la gente in fuga. Ottimo. Carica del generale. Va bene. Sì, dove andate, no. Vi porti i gaudi, tornate qua, là. Ottimo. Ok, c'è quella cavalleria, che ci dà noia. Ok, c'è quella cavalleria. Ok, vittoria. Finiamo qua anche questa, ok. Allora, uccidiamoli. Ok, molto bene. E poi ci dirigeremo verso il prossimo insediamento, che è questo qua. Concludo qua questo episodio, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.